Presidente, il dato dell'Ozze e le prospettive del Paese non sono le migliori, anche nonostante gli annunci del governo? Questo è evidente, aspettiamo però il decreto sblocca cantieri e il decreto crescita perché queste sono analisi di previsione a condizioni date, quindi ad oggi. Se dal sblocca cantieri emergesse un'operazione massiva e anche temporalmente rilevante, cioè fare quanto prima e realizzare l'apertura dei cantieri e dal decreto crescita un altro elemento, è evidente che il dato può essere corretto in termini previsionali in positivo. Incrociamo le dita che così sia e speriamo che il governo prenda consapevolezza di questa operazione che abbiamo definito importante e massiva. All'orizzonte lei vede l'ipotesi di una manovra correttiva? No, se la crescita viene compensata da questi elementi si potrebbe evidentemente evitare. Abbiamo due passi davanti a noi, uno è reagire al rallentamento dell'economia globale che purtroppo sta dando effetti anche al paese. E il secondo passo importante è prepararsi alla manovra di fine anno che non sarà una manovra affatto marginale, solo di clausole di salvaguardia IVA, se ne prevedono 23 miliardi, è evidente che bisogna prepararsi anche a quel secondo passo. È una colpa di Confindustria chiedere incontri o è il vostro lavoro? No, noi chiediamo incontri, non chiediamo favori, non sono andato a chiedere i favori per il mio fratello, chiediamo solo incontri per proporre ipotesi, abbiamo un'ipotesi sulla questione migranti che riguarda la formazione dei migranti presenti in Italia in logica di tutorship da parte dell'impresa e anche la idea di partenerati industriali che possano aiutare le microimprese del futuro. L'ho fatto qui la proposta così evito anche di fare incontri. Ieri il dibattito è scivolato su un termine già no da noi come finito. No, ma dai, poi si è corretto, è stato un momento solo di pancia e lo considero così.